Musica Dopo una settimana è stata ultimata la messa in sicurezza del campanile della Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Samignano Irpino. L'intervento, durato sette giorni, era stato sollecitato dalla diocese di Ariano e dal comune di Samignano. La struttura era infatti pericolosa per la presenza di una serie di lesioni generate dal sisma del 23 novembre 80. Il passare degli anni ha ammalorato ulteriormente le condizioni del campanile. Alla messa in sicurezza hanno lavorato le squadre del Saffa Speglio Alpino Fluviali, coordinate da un funzionario tecnico. Sono state realizzate delle cerchiature metalliche di centine linee in corrispondenza degli archi della cella campanaria. Secondo le specifiche tecniche del Vademecum Stop del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il progetto dell'opera approvisionale è stato approvato dalla Soprindenza ai Beni Culturali di Avellino e Salerno, ovviamente prima dell'intervento. I residenti hanno seguito con grande interesse la rimozione della campana maggiore e delle due più piccole. E' una partecipazione attiva quella dei savignanesi che al momento dell'ultima azione hanno applaudito i caschi rossi. A supportare i Vigili del Fuoco in prima persona il parroco del paese ed il sindaco di Savignano. La gente è stata sempre al nostro fianco, non ci ha lasciati mai soli. A tratti sembrava quasi incitarci la soddisfazione dell'ingegnere Mario Bellizzi che ha coordinato i lavori.